Ho scoperto chi avete ammazzato. Chi è? Avete ammazzato un infame. Non ho capito. Quello che avete messo sotto l'altra sera era un infame che si stava a nascondi. Che cazzo ne sa di dire queste cose, scusa? Per culo, ma no, per culo, stavo al bar a giocare ai macchinetti, a un certo punto per casa mi metto a sentire quello che stavano a dire, artavolo vicino. E si artà fuori che proprio due giorni fa, non mi hai detto te, dov'era? Al campo sportivo. Avano ammazzato un ex del gruppo loro, un figlio di una mignotta che si era dissociato, che si era venduto quei guardi. Ha capito? Questo figlio di una mignotta si nascondeva là, era terrorizzato, terrorizzato, uscìva solo di notte per mangiare. Per quello non l'avete visto, perché questo non si poteva far vedere. Ha capito o no? No, pa, no. No, no, no. Allora, innanzitutto, senti tuo padre, non vi cerca più nessuno, perché adesso saranno a pensare, come si chiama? Una faida, no? Fra clan, no? Non stanno a pensare due ragazzini che non stanno guidando la macchina. Quindi è buono? Quindi è buono, no? Poi un'altra cosa, ancora non aveva capito? Ma da che cazzo hai preso? E' il bucio di quello che abbiamo avuto, non ti rendi conto? Noi adesso, senza volerlo, senza saperlo, abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano.